Anticipazioni Terra Amara, dove vedremo il ritrovamento di Zuleya. Purtroppo il forte trauma le ha cancellato i ricordi, ma al suo risveglio confesserà a Demir di averlo pensato e che lo ama da morire. Umit vedendoli insieme, rimane paralizzata e scoppia in lacrime. Siete pronte a scoprire cosa succederà? Allora iniziamo. Le ricerche nel bosco si intensificano, e Zuleya sente rumori in lontananza. Inizia a gridare mentre Demir giace sereno a letto con Umit. Il giorno successivo, Zuleya non è stata ancora trovata, e giace sofferente a terra con la gamba intrappolata. Fekeli, alla villa, suggerisce a Sevda di avvertire Demir, nonostante fosse con il sottosegretario. Sermin rivela che Demir non è andato ad Ankara e la sua posizione attuale è sconosciuta, rendendo Fekeli ancora più preoccupato. In cucina, Gulten e Saniyai condividono l'angoscia, pregando per Zuleya, ma al ritorno della squadra di ricerca, non arrivano notizie positive. Il giorno successivo, Demir si sveglia con Umit accanto, che ha preparato la colazione per lui. Egli si sente viziato, ma Umit gli assicura che lo amerà e si prenderà cura di lui finché il suo cuore batterà. Nel frattempo, Zuleya è ancora sofferente e impotente a terra. Demir è Umit passeggiando lungo la città e lungo il Bosforo. Fikret, nel villaggio, viene a conoscenza della scomparsa di Zuleya. Indagando, gli riferiscono che è stata rapita dall'uomo delle lettere anonime inviate a Demir. Fikret domanda se sia stato Demir a dirlo, ma gli dicono di no poiché Demir è via per affari. Cetin informa Fekeli che Zuleya non è stata ancora trovata, e Fekeli minaccia Fikret, dichiarando che se lei non verrà ritrovata, lo consegnerà personalmente alla polizia. Fikret arriva in quel momento e Fekeli lo trascina in un capannone, interrogandolo riguardo a Zuleya. Fikret nega di aver rapito la donna e spiega che lei lo aveva visto girare nella sua azienda e l'aveva seguito, ma avevano solo parlato. Fekeli, furioso, gli chiede il motivo del suo inseguimento, e Fikret assicura di non saperlo. Decidono di cercarla insieme, e Fikret lo conduce nel luogo in cui si erano incontrati. Successivamente, Fikret confida di aver chiesto scusa a Zuleya dopo averla aggredita in modo repentino. Le aveva domandato cosa stesse cercando nell'azienda, ma spaventato, era fuggito, lasciandola da sola. Pensa che lei sappia che è lui l'autore delle lettere, poiché mentre fuggiva, lei gli aveva urlato se fosse stato lui a scriverle. Assicura a Fekeli che non voleva spaventarla, ma ammette di aver perso il controllo per un istante. Fekeli avverte Fikret che l'odio e la rabbia lo porteranno verso la via dell'assassinio. Fikret, giurando sulla memoria di sua madre, afferma di non averle fatto del male e suppone che sia nelle vicinanze. Cominciano quindi a cercarla nel bosco, chiamando il suo nome a gran voce. Zuley Ali sente, ma esausta non riesce a gridare. Inizia a battere una pietra contro una roccia nel tentativo di farsi sentire. Al crepuscolo, Demir fa ritorno da Adana e accompagna Umit a casa. Umit, malinconico, menziona a Demir che la storia è giunta al termine, ma quest'ultimo ribatte affermando che è solo l'inizio, poiché una vita felice li attende. Entra in casa, desideroso di un caffè. Nel frattempo, a Villa Yaman, Sevda, Saniai e Sermin sono in attesa di notizie. Nonostante le raccomandazioni di Fekeli di aspettare, Sermin insiste nel contattare la polizia. Poco dopo, Sevda chiama Demir e lo avverte che Zuley è scomparsa da giorni e non riescono a trovarla. Si affretta alla villa, dove trova Fekeli, il quale informa che gruppi di persone stanno cercando Zuley in diverse direzioni, ma non c'è traccia di lei o della sua auto. Nel frattempo, Fikret è in ospedale, dove il cugino gli chiede se ha visto Mushgan di recente, poiché ha indagato sul suo problema. Fikret, costretto a inventare una bugia su una vecchia fiamma, si infuria, sottolineando che non avrebbe mai dovuto menzionare nulla per non compromettere l'onore di Adnan. Infine, Fikret ammette che Mushgan è innamorata e si preoccupa per lui, ma che il loro futuro insieme è impossibile. Mentre entrambi, Fikret e Mushgan, malinconici, sono innamorati ma consapevoli dell'impossibilità di essere felici insieme, ognuno, a modo proprio, prende il proprio passaporto e riflette sul da farsi. Demir avverte la polizia e il comandante chiede se Zuleya potrebbe essersi allontanata volontariamente, ma Demir afferma che non lo avrebbe mai fatto, soprattutto senza i figli. Nel frattempo, Umit è ansioso per la situazione e chiama a casa di Demir. Sevda risponde e interrompe la comunicazione, sospettando qualcosa. Nella notte, con le ricerche ancora in corso illuminate dalle torce, Demir stringe i suoi bambini tra le braccia. Nel frattempo, Umit riflette sui momenti felici trascorsi con Demir. Demir si ritira nella camera di Zuleya, osservando una sua foto e pregando di non dover affrontare la vita senza di lei. Nonostante lei non lo ami, lui sente il bisogno di lei e il suo amore cresce sempre di più. Mentre tutti vegliano, Zuleya è ancora nel bosco. Il giorno seguente, nonostante le ricerche in corso, il comandante informa Demir che le operazioni nella boscaglia sono estremamente difficili e chiede l'invio di unità cinofile da Ankara, anche se impiegheranno 7 a 8 ore per arrivare. Sermin suggerisce un allevamento di cani nelle vicinanze per l'operazione di ricerca, quindi decidono di rivolgersi lì. Umit osserva tutto dall'esterno del cancello della villa. Più tardi, Demir e Fekeli si trovano nel bosco con la polizia e i cani da ricerca, lasciati liberi per cercare Zuleya. Demir è preoccupato per i giorni trascorsi dalla scomparsa di sua moglie, ma Fekeli cerca di rassicurarlo, sottolineando la forza di Zuleya. Improvvisamente, i cani abbaiano, segnalando il ritrovamento di Zuleya. Demir e Fekeli si precipitano sul luogo e la trovano svenuta. Demir la prende tra le braccia e la porta immediatamente in ospedale. Una volta in ospedale, Zuleya è assistita da Batyar, che constata la perdita di molto sangue, disidratazione e ipotermia. Nel frattempo, a villa, Sermin esprime paure sul peggio che potrebbe essere accaduto, ma viene interrotta da Saniai, commentando la tendenza di Sermin a portare sfortuna. A quel punto, arriva una telefonata da Fekeli, annunciando che Zuleya è stata trovata nel bosco intrappolata, ma ora è in ospedale e sta bene. Batyar riferisce a Demir che Zuleya è stata fortunata, poiché lo stivale ha impedito alla trappola di danneggiare l'osso della gamba e, con le cure adeguate, guarirà. Demir si trova in solitudine con Zuleya, che giace incosciente. Con voce tremante, le confessa di vivere l'angoscia di perderla, di illudersi credendo di poter esistere senza di lei o amare un'altra persona. Ma ora comprende l'impossibilità di tutto ciò. Nel frattempo, Sermin raduna le sue amiche e racconta l'accaduto. Sottolinea l'inefficienza della polizia, suggerisce l'uso dei cani e indica dove trovarli. Zuleya potrebbe morire nel bosco se non fosse per lei. Le amiche lodano la sua iniziativa, mentre Fusan, in segreto, chiede a Sermin se Demir ha rivelato il suo nascondiglio. Sermin le fa segno di tacere. Nel frattempo, Mushgan raggiunge Fikret sul posto di lavoro e gli rimprovera di non essere stato onesto riguardo alla sua relazione. Sottolinea che c'è una ragazza disposta a sacrificare la sua vita per lui. Se avesse confessato, avrebbe compreso che tra loro non può esserci nulla. Ora, per lei, lui è solo lo zio di Kerem. Fikret risponde. Ma la situazione lo addolora e non sopporta di vivere come estranei. Tuttavia, Mushgan lo esorta a recarsi in Germania dalla donna che lui considera un ostacolo alla loro felicità. Fikret cerca di dissuaderla. Ma lei, temendo ulteriori sofferenze, se ne va. Nel frattempo, mentre Gulten è in città, Ismail le riferisce di aver prestato a Gaffur 100.000 lire per andare in Germania, usando il suo terreno come garanzia. Se non restituirà il denaro, il terreno finirà nelle mani di Ismail. Gulten è sorpresa e promette di discuterne con suo fratello. Poco dopo, si reca in ospedale da Zuley a Confadik, trovandovi già Demir con i bambini e Sevda. Zuley abbraccia i suoi figli e confessa di aver temuto di non rivederli più. Demir chiede a Zuley a cosa stesse facendo nel bosco e lei risponde di non ricordare nulla. Quando Batyar arriva in visita, Demir gli chiede se è normale la perdita di memoria. Batyar spiega che è normale dopo un trauma così forte e che col tempo i ricordi torneranno. Nel frattempo, fuori dalla porta, Umit osserva Zuley e Demir vicini con i loro bambini, ma viene notato da Sevda. Rimasto solo con Zuley, Demir le confessa di aver temuto di perderla, ricordando il momento in cui ritrovò il corpo della madre e come l'aveva tradita e uccisa. Non potrebbe sopportare di perderla e le chiede se qualcuno l'ha tirata nel bosco per incastrarla. Zuley risponde di ricordare solo la certezza che lui l'avrebbe salvata. Delicatamente, Demir accarezza il viso di Zuley e la bacia, ma vengono visti da Umit di nascosto. Umit, furiosa, rientra nel suo studio e cerca di calmarsi, consapevole che altrimenti potrebbe perdere Demir. Nel frattempo, Demir dice a Zuley che non deve sentirsi obbligata a baciare lui e le assicura che manterrà la promessa di accettare il rapporto che lei desidera. Zuley ha confessa di amarlo, dicendogli di essersi resa conto che i suoi sentimenti erano cambiati ma non poteva confessarlo né a se stessa. Nascondeva di essere gelosa di lui, sempre nei suoi pensieri. Resisteva ad accettare il nuovo sentimento fino a quando, sola nel bosco, oltre ai suoi figli, c'era solo lui nei suoi pensieri. Zuley si era riproposta di confessargli i suoi sentimenti se fosse sopravvissuta. Con le lacrime agli occhi, Demir le chiede scusa per averla fatta soffrire. Zuley allora assicura, dicendogli di aver dimenticato e che devono ora pensare al loro futuro insieme ai bambini. In quel momento, Umit entra nella stanza e con apparente tranquillità chiede a Zuley come si sente. Poi le dice che il marito non l'ha mai lasciata sola e che è fortunata. Felice. Zuley astringe la mano di Demir. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti. E se non vedi l'ora di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate scrivi, voglio il continuo, nei commenti. E presto uscirà un nuovo contenuto. Alla prossima!